Forza il mio ragazzo a fare un pigiama party con me! Regolo, aiutami! Sono pronto! Giulio ha detto questa cosa a Fernanda e non puoi neanche immaginare come ha reagito. Come ha reagito? Ah ma questo è il mio colore preferito, non ci credo! Eh, sapevo che ti sarebbe piaciuto. No, questa è la mia serie preferita! Forse sta entrando un po' troppo nella parte.